Siamo in diretta con la finale di calciotavolo della decima edizione della Coppa Puglia qui a Foggia tra Gerardo Patruno che vedete qui a sinistra dei Bologna Tigers e Massimiliano Schiavone di Ascoli, club subuteo Ascoli entrambi sono foggiani, arbitra Giulio Curato che fa parte della squadra di Foggia Match iniziato, ci presenti, siamo qui con Beppe Battaglia, direttore sportivo del Foggia e calciotavolo ci presenti un attimo i due contendenti che sono due foggiani Beh sì, era la finale che almeno sulla carta si lasciava intendere sono Massimiliano Schiavone, Foggiano che gioca in Serie A con il subutio Ascoli Gerardo Patruno che gioca con il Bologna Tiger, già campione del mondo a squadre con la nazionale veteran fresco vincitore anche per il Bologna Tigers dell'Europa League è una partita dove sulla carta vede Patruno leggermente favorito però le finali sono due giocatori che si conoscono benissimo, si allenano spesso insieme per cui poi alla fine il risultato è aperto ci godiamo questa che sarà sicuramente una bellissima partita Sul tuo campo parallelo si intravede qui alla sinistra c'è un altro finale, quello del torneo cadetti che vede impegnati due rappresentanti della squadra di Foggia Sì, sono Mauro Sollazzo e Gianfranco Savastio freschi vincitori ieri dell'Open a squadre con la nostra rappresentativa il fatto che siano giocando questa finale di buon auspicio per l'andata del campionato di Serie C che giocheremo fra 15 giorni al centro federale di San Benedetto del Tronto anche quella è una partita molto aperta perché ovviamente anche loro si conoscono benissimo C'è Gerardo Patruno che attacco gioca con le pedine arancioni con base anche verde mentre bianco, bianconero è il team, la squadra di Massimiliano Schiavone ci spiega un attimino queste fasi di gioco Sicuramente adesso stanno giocando entrambi in maniera abbastanza coperta è ovvio che la partita è appena cominciata per cui si cerca soprattutto di evitare di perdere palle e quindi di dare la possibilità all'avversario di attaccare sono fasi di studio, come avete potuto notare nessuno di due è ancora arrivato al tiro Ecco, spieghiamo anche magari contemporaneamente mentre giocano quali sono brevemente le regole giuste per ricordarle agli amici a casa e ai 20 e passa che ci stanno seguendo Sì, nel frattempo volevo salutare Zach Walker che ci sta seguendo dagli Stati Uniti Zach è un nazionale statunitense che io ho avuto modo di conoscere ai mondiali di San Benedetto nel 2015 Dicevo, allora per rispondere alla tua domanda La regola fondamentale è che con ciascun omino il giocatore non può fare più di tre tocchi consecutivi appena la perdita della palla e quindi diciamo a suon di colpi a punto di dito cercare di arrivare nell'area di tiro avversaria che è delimitata da quella linea che potete vedere sulla tre quarti di ogni metà campo Una cosa agli amici, guardate le marcature delle arancioni sulle bianche, sono praticamente uomo in pratica Patruno sta cercando di impedire di giocare con tutte le pedine a sua disposizione dall'avversario che Max schiavò Sì, dato che i due si conoscono molto bene in realtà cercano di anticipare con i difensori quelle che saranno le mosse di attacco dell'altra persona per cui mentre per esempio Schiavone avanzava con un omino Patruno andava già a marcare le possibili pedine destinatarie di un eventuale passaggio e la stessa cosa adesso probabilmente ovviamente farà Schiavone Mentre sta andando al tiro c'è stata una bella entrata di Patruno che sblocca la partita Un bel gol per via centrale, ha trovato un barco e si è infilato con due tocchi rapidi Beppe, che tipo di giocata è questa? Beh, la giocata diciamo era abbastanza decisa D'altra parte Gerardo ha diciamo molta esperienza dal punto di vista subbutistico C'è stato un attimo di tentenamento di troppo da parte di Schiavone che non ha capito questa entrata a volo di Patruno per cui lui cercava di andare a marcare da un'altra parte e quindi Patruno ha avuto il corridoio libero per poter tirare fermo restando che poi il tiro è stato un signor tiro Adesso invece in fase offensiva, in proiezione offensiva c'è Massimiliano Schiavone che sta cercando sul esterno di poter arrivare al tiro anche se viene marcato da Gerardo Patruno che fa una bella marcatura davvero un millimetro non tocca la palla quindi è tutto regolare può ancora attaccare Massimiliano Schiavone che però non arriva all'aggancio è forza il fallo laterale a Gerardo Patruno quindi guadagnando la rimessa in gioco sicuramente è difficile per chi gioca subuteo o meglio per chi guarda subuteo che prende determinate regole però un conto è subire un tiro dal laterale un conto è subire un tiro dal via centrale che credo che sia molto più pesante come situazione da dover ingoiare come rospa da dover ingoiare insomma si tende a coprire molto le vie centrali e lasciare più libere quelle laterali perché da lì è più difficile segnare Sì, ovviamente andando al tiro dalle fasce laterali hai molto meno specchio tenete presente che la miniatura del portiere è abbastanza grande per cui diventa abbastanza difficile poi riuscire a scavalcare il portiere adesso ha provato un'altra entrata Patruno però ha colpito la palla un po' troppo vicino al portiere avversario per cui aveva praticamente uno specchio nullo per poter passare Schiavone apparato è un po' anche la tendenza del gioco difensivo del subuteo cercare di marcare per cercare di spostare l'attaccante avversario sulla fascia piuttosto che farlo entrare da vie centrali E ancora Massimiliano Schiavone in fase offensiva che arriva anche al tiro la palla viene probabilmente parata dal giocatore del Bologna Tigers che è Gerardo Patruno che parte subito in contropiede possiamo definirlo così Massimiliano Schiavone è bravo a cercare subito di chiudergli qualche fonte di gioco arriva anche al tiro ma c'è probabilmente niente dice l'arbitro niente quindi si può ripartire con la rimessa del portierino che è praticamente il portiere in miniatura non quello con la stecca a disposizione di entrambi i giocatori in questo caso di Massimiliano Schiavone che si proietta ancora una volta in attacco e c'è un fallo spieghiamo questo tipo di fallo Massimiliano è uno dei giocatori più rapidi nel panorama nazionale lui cerca sempre di giocare a volo di accelerare chiaramente questo tipo di gioco mette pressione a chi deve difendere e molto spesso poi capita che nella frenesia della difesa si vada a urtare o la palla in movimento o una miniatura avversaria e quindi si commetta fallo ancora in fase offensiva Massimiliano Schiavone che può andare al tiro invece preferisce cercare di rimetterla al centro situazione un po' ingarbugliata perché si gioca praticamente in sfavore di telecamera ma credo che ci sia stato un fallo fischiato dall'arbitro che in questo caso è Giulio Curato e quindi è ripartito Gerardo Patruno che però sbaglia questo aggancio e consegna di fatto palla di nuovo a Schiavone ricordiamo che il risultato è sempre di 1-0 a favore di Patruno nella finale della decima coppa a Puglia categoria Open che vede in vantaggio appunto Patruno per 1-0 nella sfida tra due foggiani di nascita ma che militano per due club differenti in questo caso i Bologna Tigers per Gerardo e il club Ascoli per Schiavone sì, mentre il gioco adesso ha ancora una fase di studio volevo salutare ho visto che in diretta c'è anche Pericles Dimopoulos che noi conosciamo benissimo perché ha giocato qui con noi a Foggia negli anni della promozione in Serie C e nella Serie B successiva e quindi ciao Pericles Sì, nella fattispecie Schiavone aveva anche l'omino avversario davanti in quel caso si cerca anche di sfruttare la miniatura avversaria per imprimere alla palla una palombella difficile da prendere in questo caso Gerardo Patruno è stato molto rapido e è riuscito a bloccare la palla sulla linea Sì, adesso c'è una punizione in fase difensiva per Massimiliano Schiavone che sta ripartendo non è schierato benissimo in difesa Patruno sta accennando Beh, Schiavone giocando molto a volo cerca sempre di sfruttare molte miniature e questa cosa chiaramente lo porta inevitabilmente a lasciare pochi omini in difesa Patruno da questo punto di vista è più ordinato adesso c'è di nuovo un tiro di Schiavone con l'omino davanti che era però piazzato bene a portare fuori la palla dalla traiettoria della luce della porta e quindi Schiavone ha guadagnato soltanto un fallo laterale anzi un calcio d'angolo Sull'altro campo quella della finale Cadetti tra i due foggiani Savastio e Sollazzo è in vantaggio al momento sul campo 7 Savastio per 1-0 passato poco fa in vantaggio lo segnaliamo in attesa di sapere anche in quel caso però c'è un tiro per Schiavone qui sul campo centrale vediamo che succede c'è la parata palla destinata sotto la traversa grande parata di Patruno la palla scendeva molto rapidamente è riuscito con le manine del portiere a portarla a buttarla in angolo adesso occhio Schiavone perché in genere poi lui dei calci d'angoli ha molta fantasia a tira fuori degli schemi abbastanza insoliti intanto segnaliamo che proprio in questo momento c'è stato il pareggio nel finale Cadetti è pareggiato Sollazzo quindi Sollazzo Savastio 1-1 altro derby tra due foggiani ma che militano anche nel club di Foggia c'è questo calcio il calcio d'angolo è stato battuto però Patruno ha intuito le intenzioni di Schiavone è riuscito a bloccarlo anche se Schiavone continua a mantenere palla ecco vedete lui ha provato una soluzione a volo e Patruno è riuscito a neutralizzare questo tipo di conclusione adesso ha riconquistato palla e riparte l'attacco di Patruno Ci sono spazi sulle corsie laterali preferisce temporeggiare Gerardo Patruno forse anche alla ricerca di qualche miniatura che in attacco in questo momento non ha Sì è chiaro che quando giochi con le miniature tutti indietro devi cominciare ad accompagnare un po' il portatore di palla con le altre miniature quindi questo inevitabilmente comporta il rallentare dell'azione ho visto che ci sono diversi compagni di squadra di schiavone in questo momento a vedere la partita infatti salutiamo i molti utenti che ci stanno seguendo alcuni foggiani che conosciamo perché seguono sicuramente la nostra pagina si dividono nel tifo tra Patruno e schiavone ricordiamo due rappresentanti della nostra città in finale attenzione che schiavone può arrivare ancora per via laterale al tiro c'è un back segnalato dall'arbitro Giulio Curato ce l'aggancio è un altro back vediamo cosa succede c'è schiavone che cerca di liberarsi al tiro evitando di cadere nella trappola del fuorigioco perché esiste anche quello il calcio tavolo quasi una partita di scacchi in questo momento ma può arrivare al tiro forse al tiro no probabilmente cercherà solo un fallo laterale e un calcio d'angolo infatti perché non aveva la possibilità di mirare lo specchio della porta c'è un fallo di Patruno in una posizione molto interessante adesso aveva lo specchio abbastanza chiuso da parte del portiere perché lui ha provato una giocata a volo per aprirsi lo spazio e costringere il portiere a spostarsi però Gerardo Patruno è stato molto bravo e riuscito a neutralizzare con quel tiro in calcio d'angolo adesso ha giocato ha tentato un'altra giocata a volo ha preso un altro fallo è difficile da fermare in queste situazioni esattamente io ho sempre detto che ha un tipo di gioco zemaniano che significa anche però più nel frattempo c'è stata la fine del primo tempo dicevo è un tipo di gioco che richiede uno stato una condizione di forma notevole per poterlo eseguire rivediamo il ponteggio su questo campo quello della finale open quello maggiore è tra Gerardo Patruno che vince 1-0 nei confronti di Massimiliano Schiavone Gerardo Patruno Foggiano di Bologna Tiger Massimiliano Schiavone Foggiano di Ascoli sull'altro campo dovrebbe essere sempre 1-1 chiedo conferma 1-1 sull'altro campo tra i due Foggiani Gianfranco Savastio e Mauro Sollazzo ed è il campo numero 7 che vedete sullo sfondo di questa immagine c'è il tifo intanto per il buon Max che vediamo qui alla nostra sinistra il tempo tecnico per l'intervallo in attesa di poter riprendere c'è Schiavone praticamente già pronto sistemate anche le pedine di Gerardo Patruno sul rettangolo verde mentre l'arbitro Giulio Curato della squadra di Foggia richiama i due giocatori alla presenza sul campo per poi ripartire in questa finale c'è anche il direttore della competizione che dal tavolo richiama i giocatori ai campi per poter svolgere questo secondo tempo della finale della Coppa a Puglia di Foggia di calcio a tavolo è ricominciata la partita sempre con le pedine bianche Massimiliano Schiavone quelle arancioni sono per Gerardo Patruno parliamo anche un attimo di materiali credo che siano due basi uguali in questo caso si fa no no Massimiliano Schiavone gioca con delle EV proevo mentre grande parata di Schiavone in questo momento mentre Gerardo Patruno gioca con delle C5 queste sono informazioni difficili da comprendere per chi non è del mestiere comunque diciamo che le basi di per sé variano come larghezza di piatto come altezza di muretto e come angolo di smuso del muretto stesso la variazione di questi parametri porta a una variazione di morbidità o rigidità in fase di aggancio è uscito fuori lo ha portato fuori si sta attaccando Patruno sul filo del fuorigioco adesso è costretto a indietreggiare allora quando si gioca dall'altra parte del proprio campo e quindi si impedisce la visuale e la corretta possibilità di parata all'avversario l'arbitro chiama il blocco quindi quando l'attaccante muove deve aspettare per fare la mossa successiva che il difensore faccia a sua volta la mossa difensiva si svolge il gioco con un Patruno che adesso ha recuperato palla e sta cercando di ripartire forza la rimessa laterale un bilancio di questo torneo di queste due giorni che ha visto tra l'altro Foggia vincere ieri nella competizione a squadra dal punto di vista tecnico possiamo soltanto essere soddisfatti di questo torneo erano un po' di anni che non vincevamo un torneo open noi come Foggia l'abbiamo fatto in casa nostra quindi a maggior ragione siamo contenti oggi abbiamo avuto diversi giocatori che hanno passato i gironi eliminatori abbiamo avuto Curato che sta arbitrando in semifinale battuto da Patruno soltanto di misura 2 a 1 diciamo che dal punto di vista tecnico siamo ottimisti per l'andata della Serie C che andremo a giocare fra due settimane a San Benedetto del Tronto dal punto di vista partecipativo ci sono stati i fedelissimi quelli che nell'ambito degli anni ricordiamo che questo torneo è alla sua decima edizione nell'ambito degli anni sono sempre venuti oramai sono degli affezionati del torneo di Foggia c'è stata un'altra entrata di Patruno e questa volta Schiavone ha bloccato dicevo dal punto di vista partecipativo ci aspettavamo qualcosa in più probabilmente la Champions League e l'Europa League che sono state giocate la settimana scorsa hanno frenato un po' lo spostamento degli altri giocatori delle altre squadre al nostro torneo anche perché come ho appena detto fra due settimane si gioca di nuovo in questo caso Patruno ha forzato un'altra volta il fallo laterale per venire fuori da una situazione in cui Schiavone aveva marcato bene la sua miniatura costringendola ad arrivare al tiro in maniera estremamente sporca e quindi poco redditizia per Patruno sì nel frattempo tra l'altro Schiavone è stato molto bravo a intercettare il fallo laterale di Patruno questo gli consente adesso di di ripartire per cercare di costruire un'azione per poter riportare la partita in parità ricordiamo il punteggio in questo momento quando mancano 10 minuti e 30 alla fine del match è sempre Patruno in vantaggio per 1 a 0 su Schiavone qui Schiavone secondo me ha avuto un attimo di indecisione avrebbe potuto tranquillamente tirare a volo una volta entrato ha tentennato ha perso l'attimo propizio diciamo alla fine si è dovuto accontentare di un fallo laterale e adesso inventa qualcosa solo che ha perso l'attimo perché il suo giocatore è andato a finire in fuorigioco non sarebbe stato considerato in fuorigioco se lui nel frattempo avesse tirato a volo con un'altra miniatura cosa che non ha fatto era molto 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 difficile prenderla comunque adesso è un po' allegra si rischia di poter andare in porta facilmente perché si è scomposta la barriera di miniatura che protegge solitamente la porta sulle linee che vediamo lì sulla tre quarti sì dal punto di vista difensivo in questo momento sono abbastanza larghi un po' troppo però si stanno bloccando entrambi molto bene anche a centrocampo per cui in difesa in questo momento nella difesa avversaria non ci stanno arrivando si tratta di una finale comunque di davvero alta alta qualità dal punto di vista proprio di tecnica ma sicuramente sì sono due giocatori uno che sta nel giro della nazionale ormai da cinque anni un altro che è stato campione mondiale nel 2006 insomma non stiamo parlando degli ultimi venuti stiamo parlando di due tra i 15-20 giocatori più forti d'Italia e tra i 30-40 più forti del mondo un altro 4-1 negli ultimi mondiali di Gibilterra ha inseguito un brillante risultato sì ha vinto il terzo titolo mondiale a squadre categoria veteran quindi diciamo è in un momento sicuramente magico insomma lui da un po' di anni come ho appena detto palla che falleva su un omino bianco di schiavone ed esce in calcio d'angolo che tiro è stato questo? Beh lui ha provato una situazione come quella che ho detto prima cioè di sfruttare l'angolazione cioè sfruttare la miniatura che aveva davanti per poter andare in palombella però evidentemente la traiettoria non gli consentiva di prendere lo specchio per cui ha forzato sì però alla fine si è dovuto accontentare del corner in questo caso una fase offensiva per Patruno che cerca di arrivare al tiro lo fa c'è una bella un gran tiro questo è un gran tiro il portiere era fuori soltanto che la posizione era difficile se la palla ha preso la traversa con un po' più di fortuna avrebbe raddoppiato ricordiamo ricordiamo anche sull'altro campo che c'è la finale per quanto riguarda il torneo cadetti tra i due foggiani Savastio e Solazzo che stanno pareggiando in questo momento uno a uno siamo in diretta anche sull'altro campo ma seguiamo questa finale c'è un calcio di punizione per Patruno che ha selezionato la vedete in mano la pedina per battere questo calcio di punizione ha fatto mossa mossa difensiva anche per Schiavone e ha cercato come dire una giocata rapida prendendosi un altro fallo Patruno sì l'ha fatta apposta perché non era in gran posizione per tirare per cui ha forzato il fallo dell'avversario anche questo un bel tiro soltanto che tra palo e portiere quindi c'è rimessa laterale prova ad accelerare in questo momento Patruno per arrivare al raddoppio può arrivare ancora al tiro stavo per dire lui è molto bravo da quella posizione ma ha anticipato e ha raddoppiato adesso mancano sei minuti e mezzo per Schiavone la cosa diventa un po' più difficile ribadiamo il risultato è Patruno 2 di Bologna Tiger Schiavone club su Boteo Ascoli 0 in questo momento Schiavone ha da attaccare portapalla con due miniature a centro campo e cerca di trovare un barco sul settore a posto ha fatto spostare la difesa di Patruno dall'alto per cercare di colpirlo poi dove era più sguarnito in effetti è così però ha solo una miniature al momento con cui porta avanti il pallone e richiama un'altra sì Schiavone probabilmente ha accusato il colpo perché solitamente quel tipo di azione lì le continua a volo diventa molto più veloce quindi è difficile per il difensore stare a controllare la situazione adesso ha fatto un fallo in attacco perché per cercare di forzare il tiro ha toccato col suo mino ha toccato l'omino avversario prima di prendere la palla e questo è un segno di nervosismo secondo me di solito questi errori gente di questo calibro non li fa una finale davvero molto bella da seguire c'è adesso un affondo di Patruno c'è un fallo probabilmente chiamato dall'arbitro Giulio Curato e quindi si riparte con questo calcio di punizione non chiede la mossa di posizionamento quindi va avanti in vantaggio e si prende un altro fallo toccando la mano col pallone la mano di Schiavone furbo in questo caso Patruno ma non ci meraviglia questa è esperienza perché al di là adesso del fatto di segnare col risultato sul 2-0 anche prendere una punizione un angolo un fallo laterale porta a far scorrere il tempo quindi si avvicinerebbe sempre di più la vittoria del torneo parte nel contropiede Massimiliano Schiavone che adesso arriva quasi in area di tiro cerca di bloccarlo Patruno con una miniatura ma lui riesce comunque arrivare a tiro e c'è il 2-1 di Schiavone bello e queste sono le azioni tipiche di Schiavone l'ha accelerata improvvisa tiro a volo e chiaramente dà pochissimo tempo al portiere avversario di prepararsi tra l'altro ha preso un bel angolo e adesso saranno 4 minuti tutti da vedere sicuramente una partita interessante che adesso è tornata anche in bilico davvero una bella azione quella di Massimiliano Schiavone che ha fatto riferimento appoggiato il pallone sulle miniatura per poi entrare in area di tiro e al volo come ha raccontato molto bene Beppe Battaglia qui a fianco a me direttore sportivo del Foggia a calciotavolo ha pescato l'angolino giusto della porta di Patruno che adesso però è già in fase offensiva e cerca di arrivare nuovamente al tiro a tiro libero vediamo c'è cambio ha chiamato cambio forse ha toccato la miniatura sì nel cercare di prendere le misure del tiro col dito ha già toccato la miniatura quindi viene considerato tocco e quindi chiaramente certo c'è questa offensiva Schiavone che cerca adesso di portare un po' più di miniature per arrivare al tiro può farlo prende il tempo di posizionarsi e mirare vediamo cosa succede para 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 Patruno un tiro non fortissimo ma che era diretto sul primo pallo sì lo specchio c'era purtroppo la lentezza della palla ha fatto così che Patruno potesse vedere la direzione e la traiettoria del tiro sì adesso Schiavone sta forzando un po' i tempi per cercare di mettere pressione a Patruno anche perché mancano gli ultimi tre minuti di gioco può arrivare ancora al tiro Schiavone vediamo cosa succede in questa occasione c'è il gol c'è un grande pareggio di Schiavone e la pressione ha sortito il suo effetto ha costretto Patruno a non poterlo bloccare bene l'attacco e lui ha sfruttato la miniatura davanti alla palla per poter inarquare un po' la traiettoria però adesso Patruno è in una posizione che a lui piace molto ha avuto fretta di concludere poteva aspettare perché la mossa era già stata fatta poteva prendere un attimo di mira aveva i 5 secondi di tempo per poter tirare che nel subutio sono un'eternità secondo me è lui adesso in condizione psicologica svantaggiosa visto che ha subito una doppia rimonta dal punto di vista proprio psicologico una grande reazione da parte di Massimiliano Schiavone perché sotto di 2-0 in finale recuperare due golle anche con quella cattiveria agonistica non era assolutamente facile no non era facile è stato bravo a fare il primo gol dopo il primo gol lui si è sbloccato psicologicamente adesso gioca in maniera più fluida cerca falli molto importanti come questo che gli consentono di ripiazzare gli omini in attacco e quindi poter poter mettere ulteriore pressione a Padru intanto sull'altro campo quella della semifinale Cadetti passa in vantaggio Sollazzo anche lì ribalta il risultato con un 2-1 momentaneo ricordiamo finale tra Sollazzo e Savastio due foggiani nel torneo Cadetti c'è un cambio perché Schiavone tocca involontariamente con il palmo della mano adesso 2-2 tra Savastio e Sollazzo anche una bella 2-1 chiedo scusa con gli amici che ci ascoltano il 2-1 era per Savastio ha in vantaggio Savastio e non Sollazzo la regola cosa si dice in caso di pareggio perché mancano 49 secondi cosa succede? in caso di pareggio si giocano 10 minuti di sudden death che corrispondono al vecchio golden goal del calcio praticamente 10 minuti in cui il primo che segna chiude la partita in alternativa dopo i 10 minuti in caso di ulteriore parità si giocheranno si faranno i tiri piazzati che sono corrispondenti ai calci di rigore 20 secondi alla fine c'è un calcio di punizione per Patruno che tende a riprendere anche un po' di tempo per giocarseli tutti quanti con calma e arrivare a sfruttare questa occasione al massimo capitalizzarla e non dare più tempo poi l'avversario di tornare in partita c'è il posizionamento della pallina Schiavone ritorna sul suo posto infatti ha provato il tiro a volo perché il tempo stava scadendo e la fretta ha fatto sì che il tiro fosse impreciso adesso andiamo a vedere quello che succederà nel sudden death ricordiamo il risultato al momento al termine dei tempi regolamentari tra Gerardo Patruno e Massimiliano Schiavone è di 2 a 2 pareggio perfetto passato in vantaggio di due gol Patruno del Bologna Tiger ha rimontato queste due reti Massimiliano Schiavone di Ascoli intanto è finita è finita sull'altro campo ha vinto il torneo chiamiamolo così consolazione a cadetti Gianfranco Savastio che al termine di queste due giorni porta via due successi uno di squadra e uno personale sono qui con Gianfranco il commento un commento veloce la bellezza di organizzare questi tornei che al di là dell'aspetto agonistico possiedono un forte senso anche dell'udico dello stare assieme e del divertirci io sono contento anche se sì una finale dove in realtà poteva essere un 1x2 Mauro Sollazzo il mio maestro per cui un errore difensivo ha favorito me la volta scorsa favori lui vive il subutico una volta per ciascuno non ci fa male a nessuno esatto una volta per ciascuno in braccia la nonna virebbe qualcuno ma salutiamo anche Gianfranco Savastio perché nel gruppo del calciotavolo esistono anche i soprannomi e tu sei il delfino assolutamente con le mie pinnate con le pinnate da dare agli avversari un ringraziamento a Gianfranco e complimenti per la vittoria è stata scelta la battuta del calcio d'inizio tramite il sorteggio viene fatto tramite il sorteggio spieghiamo come l'arbitro ha la palla in mano si si viene viene sorteggiato tramite tramite la palla il sorteggio l'ha vinto Patruno e adesso diventa fondamentale fare possesso palla e quindi cercare di di non perderla fino a quando non si riesce non si riesce ad arrivare al tiro perfetto sta in attacco in fase offensiva Schiavone cerca di fermarlo subito Patruno mettendosi tra palla e miniatura che portava palla è chiamato ad usare una miniatura lontana Schiavone che adesso è il tiro quasi libero no non ce l'ha più non ce l'ha più perché marca bene Patruno ma sbaglia questo movimento forse può arrivare al tiro Schiavone gancio chiede che il portiere venga messo nell'ambito dell'area piccola può andare al tiro parata niente parata 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 di Patruno è il calcio d'angolo a favore di Massimiliano Schiavone una miniatura è caduta però si decide dove riposizionarla in questo caso all'interno del verde del panno adesso vediamo se Schiavone riuscirà a capitalizzare questo questo corner c'è un back perché nel piazzamento ha un'altra mosso sul calcio d'angolo sono tre le possibilità di piazzamento cui seguono le tre mosse difensive del difensore abbiamo detto di uno Schiavone che spesso inventa sui calci d'angolo vediamo cosa succederà in questo caso tenta un tiro ma c'è un altro calcio d'angolo a favore sempre di Schiavone vediamo se riusciamo a seguirlo in maniera più dettagliata adesso secondo me proverà o a lanciare al giocatore centrale o addirittura a quello dietro che sta fuori dall'area di tiro sì perché copriva la visuale del portiere adesso è indeciso se forzare il fallo laterale però da posizione abbastanza lontana oppure ecco adesso gioca a conservare palla molto buona la marcatura di Patruno sì ma secondo me lui cercherà di giocare la palla poi da quella posizione lo ha visto adesso forse no non ancora l'ha visto oppure preferisce spostarla ancora sì infatti Gerardo che l'ha capito l'ha chiuso ecco come ha appena fatto in questo momento certo e questo adesso costringerà Schiavone a temporeggiare perché massimo si possono fare tre rientri dal fuorigioco questo è il secondo che però si è liberato quindi ne ha un altro che potrà sfruttare forza il fallo laterale e ci riesce secondo me adesso batterà senza mossa e ti proverà a voleva dire sì purtroppo è l'uscita corta e questo è il braccino come si dice è un po' come i tennisti quando hanno il braccino nei momenti di tensione gli si è bloccato il dito adesso cerca adesso trova un ottimo calcio di punizione che gli dà un'altra opportunità per andare al tiro chiede la distanza schiavone la ottiene che di solito è di due dita approssimativamente sono due centimetri e mezzo esatto può arrivare al tiro attenzione para para parata non era facile non era facile aveva poco specchio e anche poca possibilità di di orientare col dito l'attrattore del tiro quindi diciamo che ha capitalizzato con il corner mancano 5 minuti e 30 al termine del sudden death c'è però schiavone che da diversi minuti è in fase offensiva e quindi sta cercando di mettere pressione anche all'avversario sì praticamente da quando ha ripreso palla dopo la prima azione non l'ha più persa quindi sta giocando in maniera molto molto accorta perché ricordiamo ovviamente in caso di golden goal solo chi attacca ha la possibilità di vincere quindi lui sta cercando di mantenere comunque possesso palla per provare ad andare a tirare a colpo sicuro un'azione complessa che sta cercando di portare gli umini e la palla soprattutto da un versante all'altro dell'aria cercando di sguarnire anche la difesa avversaria forse in questo caso Patruno qualche umino dal centro l'ha tolto sì l'ha tolto però li ha pezzati comunque molto bene chiudendo la possibilità di entrare e quindi è abbastanza relativo vediamo adesso perché vedete Patruno marca sempre molto molto vicino alla palla questo rende rende difficile poi poterla manovrare e farla girare per il campo c'è un'incursione adesso di Schiavone che cerca di trovare il barco giusto può arrivare al tiro vediamo cosa succede è costretto a rientrare tira parata sulla linea praticamente di Patruno sì si era liberato benissimo al tiro però stava in posizione decentrata e soprattutto molto ravvicinata ha fatto il massimo che potesse fare Patruno gli ha piazzato praticamente il portiere in faccia per cui l'unica cosa è stato recuperare un fallo laterale adesso diventa interessante perché Patruno ha sbagliato la difensiva quindi Schiavone può andare al tiro in maniera abbastanza libera o quasi chiede che il portiere rimanga in maniera piccola ancora un'apparatissima di Patruno che salva il risultato è stato un bel intervento però la palla è ancora di Schiavone che però adesso sbaglia il tocco e dà la palla a Patruno chiedeva forse di appoggiarsi al miniatore di Patruno si secondo me gli è scappato il dito adesso è Patruno che per la prima volta in questo Saddendet si porta in attacco mancano 3 minuti 15 al termine del Saddendet quindi bisognerà vedere con questi pochi omini che a disposizione Salastio chiedo scusa Schiavone se riuscirà a portare una concreta difesa alla sua alla sua porta in questo momento Patruno all'uomo in più sulla fascia vediamo se riesce a entrare senza eccolo c'è il tiro e la respinta Patruno è molto bravo nel gioco corto e veloce per cui in queste situazioni è difficile marcarlo senza fare fallo e quindi è arrivato al tiro anche se è sporco e anche lui adesso capitalizza un fallo laterale fallo laterale in zona offensiva c'è una palla contesa probabilmente vediamo cosa decide l'arbitro dice forse non è contesa diciamo che se è contesa la palla rimane a chi stava attaccando qualora non dovesse essere contesa ci sarebbe il cambio vediamo cosa decide l'arbitro curato il cambio c'è adesso non era contesa ma il cambio c'è adesso sull'errore successivo sì anche perché per regolamento la palla non può rimanere contesa nel tocco successivo appena un calcio di punizione per l'avversario quindi ha dovuto forza il movimento e ha sbagliato ed è Schiavone che può ripartire all'attacco quando mancano 1 minuto e 54 secondi in questo momento al termine del Sudden Death ricordiamo dopo il Sudden Death cosa c'è? c'è una serie di 5 tiri piazzati dai vertici dell'area di tiro e nel caso di parità dopo i primi 5 tiri si va ad oltranza una finale combattutissima quella tra Patruno e Schiavone che al momento vede il risultato che poi è stato anche al termine dei tempi regolamentari di 2 a 2 doppio vantaggio di Patruno e poi rimonta nella ripresa di Schiavone che adesso cerca di gestire palla passando anche all'indietro cercando di trovare nuovi varchi nuovi spunti dalle miniature che ha nella zona difensiva o comunque nella sua metà campo adesso non seguiamo bene il gioco perché siamo coperti manca un minuto esatto manca un minuto se non dovessero affondare credo che saremo destinati ad assistere anche ai tiri piazzati c'è un cambio 49 secondi quindi Patruno deve accelerare se vuole provare a vincere la partita anche questi sono errori dovuti alla tensione e soprattutto in questo caso la fretta visto il poco tempo che manca mancano 20 secondi era difficile controllare quella palla è finita quindi si va ai tiri piazzati questa finale della decima coppa a Puglia di calciotavolo qui a Foggia va ai tiri piazzati con Beppe Battaglia spieghiamo i cinque punti da dove si tireranno questi piazzati ovvero dal vertice della linea di tiro possiamo evidenziarlo qui in telecamera poi in linea d'aria o in linea retta dal vertice dell'area di rigore fino all'area dall'ideale prolungamento della linea laterale dell'area di rigore poi dall'ideale prolungamento del dischetto del rigore sempre sulla linea di tiro e la stessa cosa poi nei due lati opposti come quelli delle prime due quindi due tiri molto defilati uno centrale e due a mezzo angolo diciamo adesso faranno il sorteggio forse l'hanno già fatto il sorteggio per decidere e noi ci spostiamo per far vedere meglio questa batte il primo patruno sì dall'angolo più difficile parata 0-0 sì ha provato a fare una mezza palombella per prendere lateralmente il portiere sul secondo palo però Schiavone non si è fatto sorprendere molto difficile sognare da quella posizione anche perché come avrete potuto notare il portiere non è obbligato a stare sulla linea di porta durante i tiri piazzati quindi il piazzamento è libero nell'ambito dell'aria piccola del portiere no no può muoversi può andare sulla parata certo ma questo rende il tiro ancora più difficile no prima del tiro no al tiro Schiavone risultato 0-0 sembrava gol ma era la miniatura ad entrare in rete 0-0 lui lui ha tirato a scavalcare il portiere con un pallonetto però ha messo troppa forza e adesso sul pallone va Patruno Foggiano di Bologna Tigers che calcerà dalla seconda posizione chiamiamolo sì da questa posizione adesso non voglio non voglio dire nulla ma in genere sul gol di Patruno qui ci si potrebbe anche scommettere una casa raso terra che beffa Schiavone 1-0 per Patruno sì non l'ha tirato neanche molto potente come di solito fa forse perché Schiavone se l'aspettava è il tiro forte momento di silenzio per questo altro tiro tira Schiavone pareggio questo è stato un bellissimo tiro perché ha fintato di tirare sul secondo palo e invece ha fatto venire fuori una palombella sul primo Patruno non se l'aspettava proprio siamo al tiro centrale questa è la posizione dove in genere chi sbaglia si gioca mezza partita perché è una posizione che essendo la più vantaggiosa bisognerebbe sempre assolutamente segnare al tiro va Patruno parata non tira le bordate di solito Patruno in queste situazioni fa dei tiri che che il portiere avversario neanche riesce a vedere secondo me è soltanto una questione di emozione Massimiliano sta tirando meglio in questa in questa sequenza quindi adesso secondo me è meritatamente in vantaggio per per due reti a una lo reti a uno come parziale esclusivamente di tiri piazzati ovviamente adesso al tiro c'è Gerardo Patruno ricordiamolo ancora una volta i risultati 2-1 per Schiavone che in questo momento ha il portiere tra le mani ed è in porta sì questo questo Patruno lo deve assolutamente segnare se vuole mantenere aperta la partita ha tirato abbastanza centrale quindi Schiavone ha avuto vita abbastanza facile diciamo su questo tiro adesso lui ha la possibilità di chiudere matematicamente la partita segna Schiavone la decima edizione della Coppa Apulia è di Massimiliano Schiavone vediamo cosa succede gol è finita è finita vince Massimiliano Schiavone la finale della decima Coppa Apulia va a Max Beppe una grande partita sì una grande partita che Massimiliano ha ripreso con molta freddezza ha messo alle strette Gerardo che probabilmente si è anche un po' innervosito e alla fine ritengo che abbia vinto meritatamente lo salutiamo Massimiliano Schiavone Max Max vieni qua un commento a caldissimo su questa su questa vittoria a favore di telecamera se Beppe ci dice se siamo inquadrati va benissimo così l'hai ripresa dopo il 2 a 0 l'hai ripresa dopo il 2 a 0 ho iniziato a crederci dopo il 2 a 1 e Gerardo è la mia bestia nera assolutamente ha un trend positivo nei miei confronti e questa volta l'ho spuntata io finalmente in un incontro ufficiale devo dire il cinghiale è stato domato questa volta dove credi di aver vinto questa finale con la testa perché sicuramente sul 2 a 0 è difficile con Gerardo pensare di recuperare la partita ho visto che c'era ancora tempo e mi sono dato pazienza e ho sbloccato il 2 a 1 sono riuscito a sbloccare poi ho iniziato a crederci tutto l'anno niente niente ricche con Gerardo è difficilissimo giochi con Ascoli ma si Foggiano che effetto fa vincere a Foggia non è la prima volta però insomma beh è un piacevole effetto perché insomma è chiaro che qui ho tanti amici tanta gente che mi vuole bene ci vuole bene perché anche Gerardo pur essendo Foggiano gioca con i ragazzi di Bologna e niente è sempre un piacere vincere a Foggia però lo salutiamo anche Gerardo perché oltre ad essere un campione è anche un amico insomma ed è bello che anche perché è freschissimo campione europeo quindi c'è soltanto da dargli merito e e questo dà ancora più merito alla mia vittoria oggi l'ennesima sfida naturalmente pare dispari X è finito con un 2 secco cosa è successo stavi vincendo 2 a 0 rilassamento poi avevamo deciso già che doveva vincere da lui continuativamente non era possibile insomma va bene così un bilancio di questo torneo positivo 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 sicuramente nella speranza che il prossimo anno ci siano molte più ci sia una partecipazione insomma più importante anche perché un torneo storico giunto alla decima edizione come questo meriterebbe una certa attenzione merita sicuramente l'anno prossimo speriamo è detto da un ex campione del mondo e da un campione del mondo in carica insomma un certo effetto deve farlo qualcuno insomma bisogna venire a vedere questo torneo e giocare questo torneo congratulazione ad entrambi andiamo alla premiazione grazie tanto ci sono i complimenti rivolti a Massimiliano da parte di tutti gli altri concorrenti di questo bel torneo vissuto a Foggia in questi giorni mentre ci segue Gerardo Patruno in cerca di di soddisfazioni nei nostri riguardi mentre siamo pronti anche per la premiazione partendo dal terzo posto credo partiamo dalla finale cadetti dalla finale cadetti perfetto Siamo pronti per la premiazione di questo torneo che ha visto Foggia davvero fare tanto bene dopo aver vinto la competizione a squadra e vinto anche il cadetti con Gianfranco Savastio nella finalissima tutta foggiana sia di nascita che di club con Mauro Sollazzo c'è anche Luca Ariano altro componente della squadra che viene qui alla premiazione siamo in diretta Facebook per questo riconoscimento agli atleti che si sono maggiormente distinti in questo torneo passiamo alle premiazioni finalista categoria cadetti decima Coppa Puglia Gianfranco Savastio finalista categoria cadetti decima Coppa Puglia Mauro Sollazzo complimenti a Mauro Sollazzo che vince questa coppa questo riconoscimento secondo posto al torneo cadetti adesso il vincitore prima annunciato Gianfranco Savastio il delfino di Capitanata che porta a casa un premio in questa giornata eccolo qui per lui e saluta anche il pubblico nella categoria migliore attacco il vincitore è Gerardo Patruno eccolo qui Gerardo Patruno categoria attacco il vincitore quello che ha fatto più gol in questo torneo poi per la categoria miglior difesa Max Schiavone dalla miglior attacco alla miglior difesa Massimiliano Schiavone mentre Gerardo Patruno prende a calci la nostra strumentazione tecnologica ancora un'altra premiazione l'annuncio semifinalista della decima Coppa Puglia Giulio Curato complimenti anche a un altro Foggiano Giulio Curato che vince e sale sul terzo gradino del podio in questa Coppa a Puglia ora passeremo alla premiazione del finalista della decima Coppa Puglia ci è andato veramente vicino Gerardo Patruno eccolo qui Gerardo che torna a riscuotere un premio come finalista e ora il vincitore della decima Coppa Puglia dopo tanti tentativi è riuscito a conquistarla Massimiliano Schiavone è in diretta Facebook salutiamo anche il trofeo assegnato a Massimiliano Schiavone se non ci blocca la diretta Gerardo Patruno i commenti sono questi Gerardo ma puoi rispondere puoi rispondere in diretta puoi rispondere no non vuole rispondere perfetto c'è da fare una foto al vincitore e c'è ancora un riconoscimento perfetto premiazione finita l'appuntamento quindi si rinnova al prossimo anno con la Coppa Apulia